Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Nova Notizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, per dirle in termini aderenti all'argomento, sono i conguagli che proprio in questi giorni i sardi si stanno vedendo recapitare a casa. Mittente a Banoa, destinata ai cittadini, imprese, esercenti, agricoltori e associazioni, nessuno escluso. Fatture giustificate con un vago conguaglio 2005-2011. Tradotto, spiega il presidente di Adiconsum Sardegna, un extra rispetto a quanto già pagato per coprire i debiti del gestore. Un'assurdità alla quale ci opporremo in tutte le sedi, tuona Giorgio Vargiù, annunciando di aver già chiamato a raccolta avvocati civilisti, amministrativisti e penalisti. E' ora di finirla, afferma il capogruppo dei riformatori in consiglio regionale, Attilio Dedoni. Tra l'altro vengono messe in conto alcune spese che non si capisce perché ci siano. E' vero che le spese all'utenza vanno sia per la gestione che per quel che riguarda la manutenzione, per quello che riguarda le reti e per quello che è l'insieme dell'operatività legata a questa Banoa. Però credo che sia venuto il momento di non esagerare, di andare a rivedere queste composizioni e aggregazioni di spese perché non può più sopportare il cittadino tanta tassazione. Un furto lo definisce il deputato di Unidos Mauro Pili e le responsabilità politiche sono tutte della regione che consente ad un ente strumentale come Abanoa di agire come rapinatore seriale indisturbato alla ricerca di stratagemmi per mettere le mani in tasca ai sardi. Esiste una sentenza del giudice di pace del Tribunale di Enna che in un caso analogo a quello sardo ha dichiarato illecito l'inserimento di tali conguagli in fattura. Domani intanto presso la sala conveglie di San Sebastiano in Vico Mazzini ad Oristano è in programma un'assemblea pubblica organizzata da Di Consum. Titolo dell'incontro Abanoa e i suoi balzelli. L'estate alle porte ad Oristano si pensa già a programmare uno degli eventi più attesi. Shopping sotto le stelle quest'anno potrebbe riservare delle novità a cominciare dalle aperture posticipate dei negozi ma ad avere l'ultima parola saranno gli esercenti. Alessandra Porco L'Unione fa la forza. La Conf Commercio di Oristano sfida ancora una volta la crisi e il taglio delle risorse per fare in modo che anche l'estate 2016 abbia il suo shopping sotto le stelle. Un questionario inviato a 400 esercenti cercherà di sondare gli umori e raccogliere pareri proposte sulla futura edizione dell'evento. Abbiamo invitato i commercianti alla riunione di lunedì 6 giugno alle 20.30 e in quella circostanza analizzeremo tutti i questionari. Quindi il commerciante può fare il questionario e mandarlo per e-mail o per fax ai nostri indirizzi può farlo direttamente portandolo qua anche il giorno 6 oppure può mandare solo il questionario e non venire alla riunione. Mettere d'accordo 400 commercianti non sarà impresa semplice alla fine fa sapere Conf Commercio e deciderà chi risponderà al questionario e parteciperà alle riunioni. Alcune proposte però piacciono come quella dell'apertura quotidiana dei negozi dalle 18 alle 22. È sicuramente un'opportunità in più. Si prova tutti assieme ovviamente non a macchia di leopardo perché non avrebbe senso. Allunghiamo l'orario dando la possibilità anche a chi vuole andare al mare e di godere anche insomma un po' della Sardegna. Assolutamente non possiamo rinunciarci. Ci sono delle cose da mettere a posto un attimino perché non possono dare il solo pubblico comunque il comune non può dare il solo pubblico a persone che non fanno parte del centro commerciale naturale ovviando alle spese dalle quali noi ci facciamo un carico. Quindi insomma unione di intenti però bisognerebbe anche premiare chi davvero partecipa economicamente e con risorse umane alla creazione di shopping sotto le stelle. Assolutamente. Ne parliamo spesso ultimamente ma non può essere altrimenti visti i ritardi che si stanno accumulando. La stata alle 292 è ormai la strada della vergogna. I commercianti della zona non ne possono più e presto faranno una manifestazione pubblica ad annunciarlo l'ex presidente della circoscrizione di Nuragini, Dugiacomo Piga. Qui ci sono stati degli errori madornali al momento in cui è stata progettata perché non potevano non sapere che lì c'era un acquedotto a ridosso della strada e che c'era appunto la possibilità di non fargli questi sottopassaggi perché con noi era stato concordato all'epoca come presidente di circoscrizione di realizzare dei sottopassaggi diversi da quelli che hanno realizzato. Tra l'altro hanno anche sbagliato la direzione d'uscita perché la direzione d'uscita di questo sottopassaggio che doveva essere l'intenzione del progettista quella di servire al cimitero per evitare appunto l'attraversamento pedonale nella 292 e invece appunto hanno sbagliato anche l'uscita che è rivolta verso la parte opposta. Addirittura nel progetto si parlava anche di un'assistenza appunto elettrica con delle scale elettriche per scendere sotto. Infatti ci sono delle scale normali, scale ripidissime dove un anziano non potrà mai scendere. Quindi che tipo di azioni farete con i commercianti? Stiamo valutando di fare una manifestazione qua ridosso alla 292 e contestualmente vogliono intraprendere una classation per i danni che stanno subendo perché alcuni hanno già chiuso e altri chiuderanno con la chiusura di questo tratto di strada che va tra Nuragini e Dua Massa ma è un'opera che resterà incompiuta perché non ci sono i soldi per ultimare l'impianto di illuminazione verranno messi sotto dimora i pali ma non verrà mai collaudato l'impianto elettrico di illuminazione e quindi quello che chiediamo anche è quello di adesso che siamo ancora in tempo di levare questi sottopassaggi e invece ultimare la pista ciclabile con l'illuminazione. Il coro Eleonora d'Arborea di Uristano ha conquistato il primo premio assoluto con la sezione giovanile e il primo premio con il coro Voci Bianche della settima edizione del concorso internazionale di musica vocale e strumentale Suoniamo Insieme. L'evento si è svolto nei giorni scorsi a Sant'Andrea Frius l'esibizione del coro diretto dal maestro Antonello Manca è stata accompagnata dalla pianista uristanese Daniela Pinna al concorso organizzato dall'Istituto De Magistris di San Nicolò Gerrei hanno partecipato 1.500 ragazzi musicisti non professionisti provenienti da tutte le nazionalità di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Al Centro Servizi Culturali di Uristano è stato presentato oggi il libro I bisogni di base di una donna in travaglio un testo che racchiude concetti utili per nascite sicure e naturali. Ruth Erhardt è una giovane mamma di quattro figli vive e lavora a Città del Capo in Sudafrica dove accompagna le donne a partorire in maniera naturale una professione che ha scelto di praticare in seguito alle sue personali esperienze lei che grazie alla sua mamma prima e ad un'ostetrica di fiducia poi ha dato alla luce i suoi bimbi a casa senza nessuna interferenza medica nonostante la reticenza e le critiche di chi le stava intorno esperienze che ha voluto racchiudere tra le pagine del libro i bisogni di base di una donna in travaglio presentato presso il Centro Servizi Culturali Unla di Uristano nel corso di un dibattito organizzato dal consultorio familiare un testo di grande utilità che mira a valorizzare le competenze di madre e bambino al momento del travaglio così da ottenere un parto e un allattamento più naturali oggi Ruth collabora con il progetto Nascita Compassionevole prevenire gli abusi attraverso il potenziamento delle ostetriche ed è parte del team che organizza la conferenza di Città del Capo di Ostetricia e Nascita che si propone di creare collaborazione e condivisione tra i professionisti della nascita al fine di poter promuovere esiti di gravidanze e nascite positivi e sicuri ma sentiamo in che modo Uristano il consultorio familiare accompagna le giovani madri Il consultorio familiare, come dice la parola stessa, si occupa di famiglie di mettere le famiglie, dal momento in cui decidono di costruire questa famiglia nelle condizioni di avere tutti gli strumenti per poter mantenere in salute questa famiglia compresi appunto i figli partecipa nei corsi di preparazione al parto circa il 30% delle donne in gravidanza un dato che sicuramente dovrebbe aumentare dovrebbe essere più diffusa la conoscenza sui consultori e su questa attività che è molto importante perché partecipare a un corso di preparazione al parto prevede come conseguenza di fare un parto migliore è un allattamento con maggiore successo offriamo un'assistenza immediatamente dopo il parto dove c'è un buco di assistenza che può essere compensato dal consultorio con personale non medico che si reca anche a domicilio delle puerpere noi lavoriamo molto per l'allattamento in particolare i consultori della nostra azienda sono diventati dei punti di riferimento proprio perché i tassi di allattamento soprattutto ai sei mesi dalla nascita sono ancora molto bassi rispetto a quello che viene raccomandato dall'OMS si è creata una cultura dell'artificiale così anche una cultura dell'artificiale che ha portato sia da quando le mamme hanno cominciato a fare un lavoro stradomestico sia per pressioni commerciali si è sviluppato un ricco mercato di cibi alternativi che ha portato a una riduzione di questa pratica che invece porta a molta salute oggi si considera che è difficile immaginare un altro strumento di promozione della salute così importante come la promozione dell'allattamento al seno due giorni di festeggiamenti religiosi e civili a Donigala in onore di Santa Petronilla nella giornata di oggi lunedì 30 maggio la Santa Messa è la conclusione della novena alle 22 spazio al folklore con i balli sardi di Silvano Fadda di Austis all'Organetto a Carlo Crisponi di Lodine al Canto domani martedì 31 maggio giornata dedicata alle sante messe e alle processioni col simulacro di mattina alle 10 verso la chiesa campestre di sera alle 20 e 30 il rientro nella chiesa parrocchiale alle 22 i festeggiamenti civili con i balli in piazza di Orlando ed Eliseo Magia accompagnati da Bruno Camenda il comitato invita tutta la popolazione a partecipare ed ora allo sport la trattativa per la cessione della Taros potrebbe essere arrivata alle battute finali l'era Mariani si sta chiudendo ed è corsa a due per la successione lo aveva detto settimane fa Antonio Mariani venderò la Taros e lo farò entro il mese di giugno per dare la possibilità a chi subentra di programmare il prossimo campionato per tempo oggi la conferma siamo alle battute finali anche se i possibili acquirenti rimangono due dovrebbe incontrare entrambi a breve e decidere a chi affidare le chiavi della blasonata squadra oristanese di mezzo, inutile negarlo, c'è una serrata trattativa economica Mariani venderà a chi offre di più anche perché il progetto sportivo, giura, sembra dare ampie garanzie da ambo le parti i profili degli interessati sono ormai notti entrambi imprenditori uno però è legato al territorio mentre l'altro è della penisola e ha già altre squadre di calcio impossibile sapere di più nel momento più delicato quello della chiusura questione di ore e sarà tutto più chiaro ed in chiusura vi facciamo vedere le immagini di un fortunato palio per la scuderia oristanese proprietaria di Gennariello il cavallo che ieri si è classificato al secondo posto al prestigioso palio di San Giovanni su Ergiu, come dicevamo Gennariello è di proprietà di una scuderia di appassionati oristanesi e ieri è stato montato da Danielino Mattu, fantino di Oristano famoso anche per le sue notevoli prestazioni alla Sartiglia di Oristano Gennariello si è piazzato al secondo posto in batteria ieri e poi questa è la fase finale della corsa addirittura ad arrivo è stato capace di rimontare diverse posizioni fino al secondo posto quindi complimenti a lui e ai suoi proprietari e al fantino oristanese Danielino Mattu era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti